Casella Abate è pronta a vivere tre domeniche di maggio all'insegna del divertimento, dell'intrattenimento e tanto altro con la terza edizione di Lungo Mare Vivo. Esatto, siamo alla terza edizione, confermiamo anche per quest'anno Lungo Mare Vivo una scommessa che abbiamo vinto negli anni precedenti e la riproponiamo con maggiore entusiasmo. Quest'anno avremo un sacco di novità, basti pensare alla prima giornata in cui ci sarà il Festival degli Alquiloni sulla spiaggia di Lago Tresino, ma anche altre iniziative come nella giornata finale del Laboratorio dei Lego. Tutto è rivolto alle famiglie, ai bambini, ai giovani in generale, ma a tutti i cittadini che vogliono godere del lungomare di punta dell'inverno. Anche quest'anno chiuderemo al traffico e renderemo quella zona una grossa aria pedonale. Voglio già ringraziare tutte le associazioni che ci stanno dando una mano, penso all'associazione Punta dell'Inverno, ma così anche a Officina Creativa che con i suoi laboratori animerà le varie giornate. Così come ci sarà anche quest'anno l'aiuto dell'associazione Marcialonga per i mercatini e dell'associazione La Palestra che con le sue uscite in barca darà modo di far vivere a chi vorrà il mare. Castellabate viverà tre domeniche, 12, 19 e 26 maggio all'insegna del divertimento con la terza edizione del lungomare vivo, modo per portare turisti anche appunto nelle domeniche di maggio. Sì, è una scommessa dell'attuale amministrazione, portare turisti nella zona nel periodo di maggio. Quindi già gli altri anni abbiamo chiuso una parte di lungomare dove non era stato mai chiuso e quindi abbiamo deciso di rifarla con attrazioni di tutto rispetto. Abbiamo questo festival degli Aquiloni che è la prima volta che viene qui sul territorio di Castellabate, vedremo degli Aquiloni in 3D nella prima domenica. Poi le altre domeniche saranno alledate da concerti, abbiamo Ciro Giustiniani e un grazie anche alle associazioni che supportano anche l'amministrazione, che arricchiscono il programma di lungomare vivo.